ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video recensione ho deciso di leggere pronti a credere i fantasmi invadono torino di maurizio garzara io sono venuta a conoscenza di questo libro grazie a riccardo del canale true colors vi lascio giù in info box il video in cui lui parla del libro e dell'autore che è un suo amico quindi insomma vi dice qualcosina anche di chi ha scritto questa storia io ho potuto diciamo soltanto leggere quello che c'è scritto qua che riguarda l'autore e vi posso dire che questa storia ha vinto un premio che si chiama trappolino d'oro se non ricordo male controllo si trappolino d'oro quindi è anche vincitore appunto di un premio e devo dire che la cosa non mi stupisce affatto perché è stato scritto in un modo veramente avvincente e scorrevole quindi sono contenta di averlo letto io non mi soffermerò troppo sulla trama e sui dettagli perché ritengo che questo sia uno di quei libri che è bello scoprire pagina dopo pagina quindi è meglio non dare troppe informazioni brevemente è la storia di studenti universitari che una sera si mettono a giocare con la tavola ouija se non sapete cos'è ho fatto anche un video in cui vi parlavo di questa tavola comunque quello che viene definito anche quadrante degli spiriti che ha sopra tutte quelle lettere numeri ha una planchette che si muove che dovrebbe darci dei messaggi che provengono dall'aldilà però è sempre una pessima idea giocare con questa tavola e infatti anche i protagonisti del libro dopo averci giocato comunque diciamo che rimangono molto stupiti perché accade qualcosa questo qualcosa li porterà ad incontrare una medium e scopriranno grazie a lei dell'esistenza di un'antica società segreta che vuole riportare in vita un faraone quindi loro si daranno da fare per fermare tutto questo e per difendere la loro città che appunto torino come si evince dal titolo quindi nel libro ci saranno le ambientazioni della città ci saranno avvenimenti storici e soprattutto ci sarà l'amicizia che lega questi ragazzi e ci saranno anche degli aspetti un po particolari che ci fanno riflettere almeno a me hanno fatto riflettere su come a volte ci sia davvero troppa razionalità nella vita quotidiana che ci blocca perché secondo me la troppa razionalità a volte blocca ci impedisce di credere ci impedisce di vedere e invece se si utilizzasse un pochino di più l'aspetto emotivo forse sarebbe più facile credere più facile avere fiducia questo almeno è il messaggio che ha lasciato a me questo libro poi sicuramente se lo leggerete magari voi potrete trarre altri messaggi però diciamo che a me ha colpito questa parte e devo dire che il libro è scritto in modo scorrevole quindi lo stile dell'autore mi è piaciuto molto io amo gli autori scorrevoli quelli che comunque non si perdono troppo in lunghe e inutili descrizioni invece lui questo non lo fa anzi scrive in un modo molto avvincente avrete voglia comunque di andare avanti nella lettura per vedere che cosa succede dopo quindi è uno di quei libri con il mistero con un fitto mistero che viene svelato piano piano e quindi sicuramente è il mio stile devo dire che io ve lo consiglio e secondo me questo è uno di quei libri che va benissimo anche per un pubblico un pochino più giovane e tenete presente che io ho 40 anni quindi ovviamente ho letto questo libro con l'esperienza di una una di 40 anni e l'ho colto e diciamo percepito in un determinato modo rendendomi conto che secondo me è perfetto per un pubblico un pochino più giovane rispetto a quella che è la mia età ma siccome io leggo tranquillamente anche libri per bambini senza nessun problema perché se c'è una storia che comunque mi incuriosisce per me che sia rivolta a bambini di 5 anni piuttosto che a persone di 40 non me ne faccio un problema leggo quello che mi va di leggere e quindi per me è un libro che è assolutamente consigliato però sottolineo questa cosa dicendo che è adatto ad un pubblico anche più giovane perché magari se volete fare un regalo anche a un ragazzo giovane che magari ama queste cose apprezza queste cose è perfetto quindi non è un libro horror non è un libro di paura non è un libro che vi fa venire gli incubi notturni poi dipende dalla vostra sensibilità ovviamente sapete che io sono poco suggestionabile e quindi poco soggetta a incubi notturni che riguardino i fantasmi però secondo me comunque rispetto ad altri libri che ho letto molto più forti molto più pesanti in quel senso questo io mi sentirei di consigliarlo anche a dei ragazzi più giovani anche ad adolescenti insomma a persone anche un po più sensibili perché non è un libro comunque che non vi farà dormire di notte poi ripeto dipende dalla sensibilità personale ma è comunque un libro scritto bene che è avvincente che ha un mistero molto particolare ma che comunque può essere letto anche da coloro che magari tendono ad essere troppo sensibili e a spaventarsi troppo facilmente secondo me questo è un pregio del libro è un pregio dell'autore perché ha saputo scrivere una storia bella misteriosa avvincente che tiene sempre diciamo suspense pagina dopo pagina senza per questo andare a esagerare con la paura ecco mettiamola così questa ovviamente è solo la mia opinione poi magari voi lo leggete potete avere un'opinione diversa dalla mia però è quello che io comunque ho percepito e ho sentito leggendo questo libro che assolutamente io vi consiglio lo trovate tranquillamente su amazon quindi vi lascio giù in infobox il link per poterlo acquistare direttamente io ovviamente ve lo consiglio ma non ci guadagno nulla non è una collaborazione io il libro me lo sono comprata me lo sono pagata ho deciso di leggerlo di spontanea volontà quindi insomma vi lascio il link per vostra comodità ma non perché io ci guadagni qualcosa se non quei pochi spiccioli dell'affiliazione amazon però ragazzi io mi sono affiliata ad amazon anni fa e ancora non ho ricevuto niente perché non ho superato la cifra minima per avere il pagamento quindi figuratevi quanto ci posso guadagnare però insomma comunque lo dico per onestà ma trovate il link poi credo che ci sia anche un altro sito dal quale si può acquistare il libro ma sinceramente non ricordo qual è ma se andate a vedere il video di riccardo credo che lui lo dica comunque in conclusione io vi consiglio senza dubbio questo libro faccio i complimenti all'autore qualora capitasse sul mio canale qualora capitasse su questo video perché davvero mi è piaciuto molto lo stile e mi è piaciuta la storia e mi è piaciuto comunque anche il modo che ha avuto di elaborare i personaggi di descrivere i personaggi mi è piaciuto molto il fatto che emetta anche l'amicizia all'interno della storia quindi insomma assolutamente complimenti all'autore e libro super consigliato fatemi sapere nei commenti se lo avete letto cosa ne pensate io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme